Ciao a tutti ragazzi, oggi vi racconto come è andato lo Scenic Trail e purtroppo vi preannuncio già che non è andato così bene come speravo ma iniziamo dall'inizio e iniziamo il video Come sapete ormai da mesi ho deciso di fare lo Scenic Trail in particolare la 100 miglia, una gara a 167 km, 11.000 e passa metri di dislivello la mattina della partenza, il venerdì, ci presentiamo per il briefing tecnico mezzo aprile della partenza, alle 7.30 e l'organizzatore ci comunica che la gara è stata annullata la gara è stata annullata per mal tempo e in effetti poi il pomeriggio si è scatenato un temporale veramente brutto ma brutto brutto che se l'avessimo preso in quota dove presumibilmente saremmo stati più o meno nell'orario in cui c'è stato il temporale cioè quasi sicuramente ci sarebbe scappato il morto quindi applauso all'organizzazione per aver preso questa decisione importante perché comunque è sempre importante la sicurezza quindi io sono stato subito a favore gli ho detto anche al tipo di organizzazione ad Aaron gli ho detto guarda per me hai fatto bene mi è dispiaciuto perché comunque è un anno che mi preparavo per quella gara però la sicurezza non si è lemosina mai detto ciò però fortunatamente l'organizzazione ci ha anche detto se volete potete partecipare alla 120 km che partiva la sera stessa giusto per non mandarci a casa mani vuote ecco e quindi vabbè se lì cosa fai? Non partecipi? Andiamo a farla a 120 km alle 22 di sera a questo punto si parte per la 120 km pronte via partiamo innanzitutto il pubblico mi è piaciuto tantissimo perché è tanto tanto pubblico non sono così abituato perché non faccio gare molto popolari preferisco quelle sempre un pochino quelle un po' strane che non conosce nessuno quindi quando trovo il pubblico comunque mi piace sempre molto emozionante e niente pronte via partiamo si sale su alla gola di lago il primo ristoro è gola di lago dopo tipo 8 km io però non ho visto il ristoro nel senso siamo passati via dritti non ho visto un tavolo con dell'acqua zero proprio zero a quanto mi hanno detto c'era una fontana neanche indicata cioè io non l'ho proprio vista quindi il primo ristoro per me non l'è proprio esistito vabbè però poco male perché comunque non era passata neanche un'ora dalla partenza avrei tirato giusto avrei avuto giusto qualcosa e se l'è ripartito quindi vabbè ci può stare anche perché comunque in questo tratto di percorso c'era tanta acqua tante fontane quindi l'acqua non era così grosso problema il primo tratto è abbastanza corribile molto facile alla fine il cancello era stretto adesso vogliamo parlare dei cancelli perché comunque 22 km con più o meno 1500 dislivello in meno di 4 ore per qualcuno può essere abbastanza difficile io sono passato lì più o meno dopo 3 ore me la sono presa abbastanza comoda perché comunque sapevo che la gara era molto lunga è arrivato il ristoro di arosio quindi questo è il primo ristoro ufficiale devo dire ristori e soprattutto anche questo qua di arosio ben forniti l'ho trovato di tutto e di più sia dal punto di vista dei cibi solidi che dal punto di vista delle bevande davvero ho organizzato bene anche i ristori mi sono piaciuti poi ne parliamo successivamente anche dei ristori e da lì è iniziata la parte più complicata della gara ovvero la prima salita al monte Gradiccioli dopo aver già fatto 1500 più o meno di dislivello fino al primo ristoro pronti via si parte per questa tirata che praticamente in certi punti aveva delle pendenze veramente veramente elevate cioè quasi da mettere la mano sul terreno davanti a noi per tirarci su talmente elevate però alla fine io mi sono risparmiato ho avuto con me la mia fascia cardio quindi mi sono detto ok non andiamo troppo alto di battiti così risparmiamo un po' di energia che la gara è lunga e nonostante io non sia andato alto di battiti mi ho cercato appunto di risparmiarmi sono andato su abbastanza veloce senza tanti problemi ho avuto la fortuna di trovare una persona davanti a me che andava su con il mio stesso passo quindi mi sono attaccato dietro mi sono fatto un po' trascinare però ogni tanto si è andato il cambio davanti quindi alla fine ce la sono angiostrata così arriviamo in un cimamonte Gradiccioli che sono ormai notte fonda non ricordo preciso l'orario però c'è una vista bellissima cioè arrivato in cima davvero c'era una vista si vedeva completamente tutta la pianura padana in lontano piccolino piccolino si vedevano anche i grattacieli di Milano da una parte e quelli di Torino dall'altra che dire è una vista veramente bellissima sceso dal Gradiccioli a questo punto avevano già fatto oltre 2000 metri di dislivello ed eravamo solamente attorno al trentesimo chilometro sceso dal Gradiccioli si risale sul monte Tamaro anche qua semplice risaliamo erano giusto un 150 metri di dislivello finché scendendo arriviamo alla capanna Tamaro capanna Tamaro altro ristoro anche qua vabbè è un rifugio di montagna però comunque ho trovato cibo ho trovato acqua ho potuto mangiare quindi anche qui che dire anche questo ristoro mi sono trovato veramente veramente bene a questo punto però si inizia a scendere inizia ad albeggiare si inizia a scendere 10 chilometri di discesa i primi su strada bianca praticamente su una strada dove ci potrebbe passare una jeep senza tanti problemi il problema è stato dopo quando è iniziato a entrare nel bosco perché con tutto il temporale che aveva fatto il giorno prima cioè i sentieri non esistevano praticamente i sentieri erano solo dei rigagnoli dei fiumi che scendevano tantissimo fango tantissime foglie bagnate e che dire allora sicuramente mi ha aiutato per capire la tenuta della scarpa che avevo che avevo in test quindi poi di questo ne parliamo e ho trovato tanta tanta gente che è caduta per terra ho trovato ho visto gente cadere per terra ho trovato un signore che cadendo per terra si era fatto male in un ginocchio l'ho un pelo aiutato abbiamo chiamato insieme all'organizzazione per dirgli che si sarebbe ritirato e di aiutarlo perché veramente non camminava più che dire è stata una discesa un po' complicata a me sono girate un po' le scatole perché comunque di solito in discesa il mio terreno ideale riesco ad andare giù veramente molto velocemente ma non sono riuscito a recuperare un po' il tempo che volevo proprio perché il sentiero era acconciato veramente male però ci sta anche questo è trail running quindi ci può stare arrivato in fondo alla discesa c'è il ristoro di Monte Ceneri e qui più o meno sono le sei di mattina se non ricordo male esco dal ristoro verso le sei di mattina e ho mangiato la verità ho praticamente fatto colazione però ho mangiato io di solito tendo a mangiare cose alimenti che mangio spesso che so che non mi fanno male come vi dicevo ho mangiato il mio panino al prosciutto con un po' d'acqua niente di che il problema è stato che Prontivia si riparte per la salita successiva durante la salita senza star male inizio ad avere nausea tanta nausea capisco che il prosciutto che ho mangiato mi stava facendo male sinceramente non so il perché è un alimento che mangio spesso quindi non penso che il problema sia stato tanto dal mio punto di vista quanto proprio di quello che ho ingerito probabilmente non so se la qualità non so per quale motivo sarebbe stato da analizzare ma non è così semplice e niente vi lascio un attimo una clip che ho registrato in gara che vi fa capire un po' qual era la mia situazione ho un po' un problema al presidente ristoro c'è che c'è da mangiare ha mangiato panno e prosciutto e bevuto acqua ora è più di un'ora che ho la nausea non capisco il perché cioè mangio sempre panno e prosciutto non lo so il problema in tutto ciò è che andando il sangue a confluire nello stomaco per il problema per la digestione non ho più forza nelle gambe proprio allegria niente adesso mi toccano 3 km e mezzo di salita a 600 metri di slivello vediamo un po' come va io prima ero là là così dove c'è quel pilone c'è la capanna panno adesso di qua stiamo andando verso l'alpe di caneglio monte di caneglio e siamo al 48esimo chilometro ma che spettacolo e quello lì sotto quello lì è belle in zona una volta lasciato il ristoro dell'alpe del tiglio ci aspetta una salita importante e io qui praticamente non avevo più forze perché ho fatto una cavolata nel senso nell'averna nausea non riuscivo più a mangiare non ho più voluto mangiare quindi ho iniziato ad andare un po' in crisi di fame non avevo più energie praticamente quindi quella salita è stata abbastanza tosta proprio perché mi sentivo un po' mancare le energie però più o meno sono riuscito a recuperare la salita l'ho passata e è arrivato il ristoro successivo all'alpe di caneggio a corte di mezzo sapendo comunque che non avevo mangiato tanto sentendo un po' lo stomaco vuoto ho rimangiato e tutto è tornato normale davvero ho rintegrato quello che non avevo preso in quelle ore perché avevo problemi di gestione arrivato a quel punto ci aspetta una discesa di 5-6 km fino a Isone dove c'è praticamente a metà percorso siamo più o meno il 66esimo chilometro dove abbiamo la base vita per scendere a Isone c'era una discesa attorno ai 3 km su asfalto e correndo su asfalto inizio a sentire male ai piedi esattamente questa cosa perché poi ci tornerà inizio a sentire male ai piedi non ci faccio tanta importanza arrivo a Isone arrivo a Isone che ormai erano le 11 11 e mezza se non ricordo male ho perso un po' di tempo proprio perché avevo avuto questi problemi di gestione e niente detto ciò a Isone mangio fortunatamente trovo anche la mia ragazza ci scambiamo 4 chiacchiere me la sono presa anche abbastanza comoda ho detto vabbè me la prendo comoda tanto il tempo ce l'ho non ho tanti problemi quindi me la prendo comoda ce la gestiamo aggiornamento allora sono arrivato a Isone sono già uscito dalla base vita ho mangiato mi sono ripreso un po' ho deciso di continuare l'unica cosa mi mette un po' in dubbio questo sole perché io ho un po' un problema col sole nel senso che lo soffro tantissimo ma il sole normale mi fa né caldo né freddo nel senso si ho caldo ma questo sole qua che c'è ormai da un mese praticamente lo sto soffrendo da morire e niente vediamo un po' come va in questo momento che sono dirigendo verso la capanna Davrosio dopodiché da lì deciderò perché da lì poi mi aspetterò 12 km in cresta tutti completamente sotto sole vediamo come vi ho detto nella clip alla fine c'era tanto tanto caldo e il caldo è stato il motivo il motivo la causa del perché mi sono ritirato il problema è stato con le scarpe praticamente poi di questo ne parliamo successivamente in un altro video perché voglio analizzare a fondo quello che è successo il caldo mi ha dato dei problemi sulle scarpe e alla fine non riuscivo più a camminare poi ne parliamo bene perché voglio approfondirlo però sono arrivato ad un certo punto in cui praticamente non riuscivo più a mettere un piede davanti all'altro e niente considerato che avevo ancora davanti 40 km mi sono dovuto ritirare tutto questo è successo nell'arco di una decina di km davvero in 10 km mi si è complicata completamente la gara e sono arrivato ad un punto in cui non camminavo più ogni singolo passo non è che mi costava fatica era proprio sofferenza cioè ma ne riparliamo ne riparliamo davvero di quello che mi è successo perché è un argomento molto importante di cui preferisco parlare nel video che uscirà nel prossimo video detto ciò comunque io sono veramente dispiaciuto di quello che è accaduto dentro di me ero veramente triste perché comunque la gara stava andando da dio cioè io la gara l'avrei conclusa sicuramente in meno di 24 ore perché i tempi ve lo stavano giustificando fino a quel momento avevo spinto anche abbastanza poco nel senso i 40 km successivi quando mi sono fermato a Isone ho parlato con la mia ragazza abbiamo guardato un attimo il dislivello che mi mancava ai km e ho detto posso cioè questa la portiamo a casa scialla perché veramente essendo anche preparato per una 100 miglia ero molto in forma però purtroppo è arrivato questo problema ai piedi che mi ha costretto a ritirarmi e questo cioè quando stai bene quando stai bene quando stai facendo una gara perfetta quando ti sei gestito bene quando senti che sei in giornata e poi capitano delle cose che non sono colpa tua non sono prevedibili diciamo che la colpa è o del materiale o di qualcos'altro ti rode mi erano davvero tanto essermi dovuto ritirare per questi motivi però poi come vi racconterò non potevo fare altro cioè l'unica opzione era ritirarmi andare a farmi medicare e fermarmi lì perché non avevo altra soluzione e comunque ne parliamo come dicevo nel prossimo video detto detto ciò io alla fine ero veramente triste davvero veramente veramente triste ancora oggi più o meno ho elaborato un po' quello che è successo e sono riuscito a non attribuirmi la colpa però comunque sono triste perché la gara non l'ho portata a termine il motivo non era mio perché con cui stavo veramente veramente bene non so come andrò un po' avanti con la stagione nel senso l'obiettivo è sfumato sia per il cattivo tempo che ci ha annullato la gara che per quello che mi è successo probabilmente adesso mi prenderò un po' di pausa perché comunque in questo momento da luglio in poi ma già da giugno comunque siamo nel pieno della stagione del trekking e voglio concentrarmi un po' anche su quella parte perché il trekking si fa principalmente d'estate quindi come dire ho tante materiali da provare da quel punto di vista non so a quali gare mi iscriverò mi piacerebbe comunque farne una attorno a settembre ottobre magari anche qualcos'altro più avanti però per il momento mi fermo un attimo cerco di far riposare anche il corpo perché comunque sono stati mesi di preparazione veramente molto 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 intensi e niente ragazzi che dire io per il momento vi ringrazio di aver guardato questo video vi invito a guardare il prossimo perché sarà molto importante vi spiegherò nel dettaglio cosa mi è successo e ne parleremo insieme perché voglio capire anche il vostro punto di vista e se quello che è capitato a me magari può essere anche capitato a voi quindi per il momento io non posso fare altro che salutarvi e rimandarvi al prossimo video ciao ciao